Il piano funziona, vi inseguono tutti i poliziotti corrotti di Rio. Muovetevi velocemente. La strada migliore? Continuate dritti per mezzo miglio fino alla Rua Fonseca. State attenti. Striscia chiudata, Dom, davanti a noi! Giriamo a destra! Non possiamo, è troppo stretta! Non abbiamo scelta, ora! Cazzo! Grazie a tutti! Grazie a tutti.